allora dicevamo Fede Rossi che schifo torniamo a noi denuncia sociale da parte del caro Fede Rossi che è invitato nell'evento Cerbero Classico ovviamente che comunque lui ha fatto pure gare chi più di lui ieri sera ho fatto un giro in un locale di Ricciono hanno tentato di strapparmi dal collo la catenina d'oro regalatemi da mio padre non ce l'hanno fatta perché sono riuscito a prenderla al volo prima che me la sfilassero dal collo quindi si è soltanto rotta se permettete mi sono svegliato con la vena un filino polemica mi girano i coglioni perché l'Italia tutela i diritti di tutti tranne che di noi cittadini italiani dico questo perché perché mi sono girato li ho visti in faccia questi due pezzi un marocchino non so se marocchino tunisino la faccia era quella e un latino mezzo mulatto facevano già finta di niente ma io li ho visti in pieno anche perché eravamo in quattro te l'abbiamo visti tutti ora voglio dire avevo sentito tante volte parlare di queste robe praticamente tu passi te la strappano al volo dal collo quando ti giri non li vedi ripeto non ce l'hanno fatta strapparmela ma è già successo ad altre centinaia di migliaia di persone finché non ti capita non ci credi a me mi girano i coglioni perché sono andato a chiamare butta fuori glieli ho indicati glielo ho detto li hanno sbattuti fuori dal locale ma mi hanno anche detto sì lo sappiamo uno dei due lo conosciamo già e allora che ci fa questo qui lì dentro voi potete dirmi politicamente corretto il perbenismo ma ogni volta che si sente si legge di queste robe qui nove volte su dieci l'articolo inizia sempre con tunisino ha tentato di fare questo sudafricano è entrato in casa della signora e nigeriano ha fatto quest'altro e allora tutti così io potrò essere libero senza censura senza censurato di dire che si stava meglio tanti anni fa quando l'italia era degli italiani e sta di tutte proprio senti 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 questa frase quando ho sentito sta frase sembrava il meme del rubino del padre del nono del rubino stava meglio ai tempi del minone guzzanti è diventato infatti io ho visto sto tiktok che ci hanno taggato tra l'altro non vi rispondo ma grazie ai ragazzi che mi taggano sotto i potenziali link li vedo tutti cioè arrivata sta frase ho detto no vabbè è fake e perché perché due stranieri hanno provato a rubare catenina d'oro ma stiamo scherzando questo collega al fatto che gli italiani non sono tutelati e loro sì perché loro che rubano beh sì è un ruotimento di culo mamma mia è vero sembra di essere tornati indietro da tanti anni e stiamo su facebook cioè mi ha dato proprio quei vibes tutela gli immigrati poi il periodo è quello giusto tra l'altro è fede secondo me in posticino giorgia dove trova pure ministero dopo sport che senso tutelare gli italiani c'è anche in che modo lui doveva essere tutelato in quel momento doveva scendere un angelo l'unica cosa se è vero da parte della discoteca che nulla a che vedere con il governo magari rendere effettivi i daspo cioè se conosci già un personaggio indipendentemente dall'ettrica no 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 parlavo del caso specifico no lui ha detto già lo conosciamo allora a quel punto metti un daspo per le persone che magari è già beccato eh ma lì non è un discorso italiano no no ti dicevo infatti persone moleste non c'entra nulla l'italia intesa come governo nello specifico della discoteca magari rendere validi i daspo in seguito a che sono risse furti eccetera ovviamente ciò non toglie la possibilità di rubare comunque altrove se sei un lestofante rimani un lestofante però la cosa divertente è che lui ha esteso un'esperienza personale vera o falsa comunque non piacevole subire un furto è come tutto il discorso che ultimamente sto vedendo in relazione ai sinti agli zingari nelle metro ci sono stati pure i meme a noi viviamo per rubare questo è il nostro lavoro lo sappiamo ovviamente non si può neanche fare l'apologia dall'altro punto di vista perché sono situazioni spiacevoli il momento in cui ti trovi a doverle affrontare pure lo stupido caso stupido fino a un certo punto del cane rom che che mi morse un po di tempo fa quella era ma la gestione da parte di chi deve tutelare le persone che passano lì vicino al campo rom e per mesi hanno lasciato sti cani rabbiosi incustoditi con pericolo c'entra qualcosa l'etnia no semplicemente c'entra il fatto che sono persone magari in una condizione economica e di vita non agiata e quindi sono più portati a fare determinate cose come furto perché non hanno magari altri sbocchi o semplicemente è responsabilità individuale di un criminale che è criminale indipendentemente dalla sua etnia adesso da questo discorso anche banale cioè condizioni di povertà è una cosa che viene detta anche in america perché c'è più incidenza di reati nella comunità black per un discorso economico ovviamente non è che il giocatore da nba in quanto nero va a rubare no giustamente al di là di questa cosa tornare col pippone no l'italia agli italiani ai tempi di minonno ste cose non succedevano è una cazzata rubava cioè c'erano comunque i furti tra italiani quindi se fosse stato un italiano a sfilarti la catenella sarebbe cambiato qualcosa no sempre un furto rimane so che i ladri il mestiere del ladro esisteva ricchi e poveri ladri e derubati esistono in ogni contesto quelli che dicono che lo fanno per cultura ma in che senso è molto interessante che dice che più l'etnia dipende di che etnia parli uno ha scritto gli zingari in chat ma è un po generico in certe nazioni magari gli animali vengono trattati in maniera diversa che è da un'altra nazione no si all'etnia insomma no dico no il rubare sto dicendo rubare non come fate ad affermare no se è vero perché se noi c'è che è un pregiudizio noi italiani se dice che rubiamo di più la cosa potrebbe essere c'è stanno pure varie teorie sul fatto che siamo stati in una nazione spesso occupata secondo me all'estero dicono cose simili anche dell'italiano diranno che di base siamo mafiosi ma il fatto è che allora secondo me se vogliamo fare una live seria in relazione al discorso zingaro sinti eccetera anche cultura da vagabondo da itinerante che si potrebbe anche fare ma come si deve perché altrimenti poi si andrebbe a brutalizzare un concetto mettendo nello stesso insieme tutti cioè io quando sento parlare di persone che commettono furti di una determinata etnia vedo che sono i rom sono i rom che rubano è una cazzata sono stati i rumeni è una cazzata non vuol dire niente rom è anche ombrello come definizione cioè io tipo ho un amico che è rom ma è un albanese medico quindi david ciaolli quindi che cazzo c'entra poi ovviamente ci sono delle culture che in italia si sono insediate in un determinato modo quindi con itineranti o confinate all'interno di questi campi i rom dove chiaramente si vive di espedienti e questo purtroppo è evidente perché la bisognerebbe parlare magari con persone che hanno studiato la storia di queste comunità comunque finiamo qui che c'è il delirio totale posso dire che non mi sento tranquillo non mi sento sereno quando esco perché non posso farmi vedere con una collana al collo perché ci sono sti pezzi di merda che vogliono rubartele e possono fare quello che gli pare posso o devo essere censurato perché ormai viviamo in un paese che è tutto così 600 tanti ha censurato addirittura sono di ruba la catenina d'oro di star 100 discorso alla met carus se vuoi più di niente politicamente corretto